Una volta l'anno, il 2 ottobre, meritano il trono e una corona. Sono i nonni. Supporto importantissimo per le giovani famiglie prese dal lavoro e dai tanti impegni. I nonni, spesso la soluzione ad ogni difficoltà, pronti ad allargare le braccia ed accogliere. È un ruolo importante per i bambini, è un ruolo che abbiamo e lo facciamo con l'amore perché i nipoti sono tutto, tutto, tutto. Anzi, siamo preoccupati per un futuro loro. Almeno io sono preoccupatissima. Che chiediamo a questi ragazzi? Che ricordo avevano dei suoi nonni? Dei miei nonni ho solo i ricordi che si lavorava assieme ai nonni. Si manciava un po' di olio sul pane oppure due fagioli. Questi erano i nostri pranzi. Cosa si ha provato quando è diventata nonna? È una cosa emozionantissima, proprio che supera tutto. Che cosa significa essere nonno? È indescrivibile, non si può dire, non ci sono parole più belle di essere nonni. Non lo so, non lo so, è indescrivibile.